La Cappella di Nostra Signora della Misericordia ha un magnifico altare proveniente dalla chiesa delle Carmelitane di Santa Teresa. È presente la statua di Nostra Signora di Misericordia già sulla Porta Bellaria, XVI secolo, incoronata dal Cardinale Ferrari nel 1915. Ci sono le statue di San Giuseppe e di San Giovanni Evangelista del Paleni. L'altare è di Giovanni Giacomo della Porta e di Giovanni Battista Casella, 1662. Alle pareti affreschi di Lazzaro dei Maestri. Grazie. Grazie.